Il 24 maggio si disputerà la finale di Champions League tutta spagnola tra Real e Atletico Madrid, ma la data sarà ricordata anche perché segnerà il giorno in cui per la prima volta nella storia sarà possibile ordinare una Mustang in Europa. Ford offrirà infatti l'opportunità di prenotare in anteprima una delle prime 500 Mustang in vendita in Europa. Le prenotazioni online cominceranno al momento del fischio d'inizio della finale della UEFA Champions League e termineranno alla fine dell'incontro. I 500 esemplari dell'edizione limitata saranno disponibili nella versione sia fastback che convertibile e potranno essere ordinati sia con l'Ecoboost 2003 da 309 CV che con il V8 5000 da 426 CV. Ford Mustang sbarcha in Europa per la prima volta dopo 50 anni dalla nascita.